Il ricordo di 50 anni fa, ma anche un richiamo alla sua vita di pastore oggi. Cosa si porta via da questo ritorno a Trento? Moltissime cose, per esempio giù alle Grazie, con i novelli sacerdoti che si preparavano. Ieri a Oies, a pregare a San José, che è stato in Cina e quindi lo sento molto vicino. Oggi con queste feste vigiliane, che ci vede riuniti tutto il popolo, le autorità, i religiosi, porto via ricordi bellissimi. E vi ringrazio tanto anche voi, che siete i comunicatori di questi buoni messaggi. La gioia poi di avere un suo discepolo dai tratti sinusi. Certo, certo, è un caro amico ancora da quando lui era giovane. Pensa, lui ha l'età, 45 anni e mezzo, che io ho del Perù, 45 anni e mezzo. Quindi siamo molto molto vicini.